E a scala dei turchi provoca rimostranze da parte dei vacanzieri il percorso delimitato da una staccionata in elegno che si è costretti ad attraversare per aggirare l'aria chiusa al transito per rischio crolli. Molti bagnanti preferiscono invece aggirare lo stesso percorso, ritenuto pericoloso perché scivoloso e scomodo. Il sindaco di Real Monte Calogero Zicari replica per gestire così tante persone in questa situazione ci vuole l'esercito. I ragazzi del progetto civico fanno informazione sul posto ma non sono forze dell'ordine e non possono intervenire. E lo scorso 16 dicembre la scala dei turchi è stata chiusa al transito a seguito di un crollo dal costone di Marna Bianca. L'associazione ambientalista Mare Amico, coordinata da Claudio Lombardo, ha subito proposto una facile operazione di disgaggio che consiste nel rimuovere parti o frammenti di roccia a rischio di distacco e caduta. Si tratta di un'operazione praticabile in una settimana con costi irrisori. Mare Amico ha anche redatto il progetto e la spesa sarebbe stata a carico degli operatori turistici del luogo. Invece no, ci si è impuntati sulla costruzione della passerella. Ecco gli esiti nel videotestimonianza di Mare Amico. Grazie. Grazie. Grazie.